ciao a tutti continuiamo a parlare di moto bmw nello specifico ci occupiamo di sicurezza la casa di monaco è da sempre attentissima al discorso della sicurezza è stata la prima a introdurre l'abs su una moto da tempo aveva attivato il programma safety 360 gradi che prevedeva appunto la diffusione dell'abs di tutti i sistemi di sicurezza su tutta la sua gamma ed è stata la prima a introdurre questo bellissimo pulsante rosso che vedete qua sul manubrio delle moto l'e-call l'emergency call un sistema che in grado di capire attraverso i suoi sensori o anche per esempio la piattaforma inerziale che serve all'elettronica per gestire controllo di trazione abs e quant'altro se la moto è caduto è stata coinvolta in un incidente in questo caso le moto che sono dotate di e-call che sono praticamente ormai tutte quelle della gamma bmw ma da diversi anni è diffusa almeno sulle top di gamma fa partire automaticamente una chiamata di emergenza che farà arrivare i soccorsi al più presto nel momento in cui voleste azionarla voi non fate naturalmente scherzi cretini potete farlo manualmente aprendo lo sportellino qui al lato del manubrio e premendo il pulsante rosso ma naturalmente vi può anche semplicemente capitare di non trovarvi in una situazione di emergenza ma purtroppo di rimanere in avaria può succedere carburante sporco una batteria scarica insomma restate a bordo strada fermi in panne in questo caso anche o meglio in questo caso bmw ha pensato a voi perché vi offre il servizio mobile care che per cinque anni legato al numero di telaio dalla prima immatricolazione quindi non conta se siete il primo secondo il terzo proprietario se non sono passati cinque anni dalla prima immatricolazione della moto avete diritto all'assistenza stradale in tutta europa naturalmente a seconda del paese in cui vi trovate i servizi disponibili possono cambiare ma in linea di massima potete contare sul fatto che qualcuno vi venga a prendervi possa trasportare la moto nella concessionaria più vicina in caso di stop prolungati in condizioni particolarmente favorevoli magari anche disporre di un mezzo sostitutivo con il quale tornare a casa o portare a termine la vostra vacanza in ogni caso assistenza e rientro a casa sono garantiti a questo punto io direi che non mi resti che salutarvi invitarvi a continuare a guardare tutti i video che stiamo producendo per raccontarvi al meglio la vostra bmw quindi arrivederci a presto continuate a seguirci ciao